Dopo un difficilissimo agosto e dopo tanti posti di lavoro persi, arriva la risposta di Sei Toscana, con un programma condiviso per l'assunzione di oltre 150 persone, riorganizzazione dei servizi nel personale operativo per ogni cantiere al fine di ottimizzare l'efficienza e la funzionalità del servizio, la necessità di avere al più presto da parte di Ato Toscana Sud l'approvazione del piano di ambito, così da uscire da una situazione che impedisce alla società un'organica e definita pianificazione delle risorse umane e tecnologiche. Sono questi i tre punti principali emersi nell'incontro tra il management di Sei Toscana e le organizzazioni sindacali. Al termine dell'incontro i sindacati e la società hanno firmato un verbale di condivisione di un programma che prevede diverse fasi. Sei Toscana e i sindacati hanno concordato di procedere all'assunzione di 45 lavoratori a tempo indeterminato individuati secondo l'ordine della graduatoria dell'accordo sindacale del marzo scorso. L'assunzione di queste 45 persone avverrà all'inizio del prossimo mese di ottobre. L'azienda si impegna inoltre ad assumere altre 30 persone a tempo determinato, sempre individuate secondo l'ordine della graduatoria dell'accordo sindacale di marzo. L'assunzione avverrà entro la fine di ottobre e comporterà l'acquisizione di diritti all'assunzione a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2019. In questo mese Sei Toscana i sindacati avverranno una verifica congiunta delle esigenze funzionali alla gestione dei cantieri per l'assunzione di altre 25 persone. La società è anche intenzionata a procedere alla verifica dell'inserimento di ulteriore personale nella misura di 50-60 unità con la forma contrattuale più idonea. Tale rapporto verrà instaurato per la durata di almeno un anno e comporterà a seguito della sua revisione in prossimità della scadenza la valutazione circa la definitiva stabilizzazione del personale coinvolto. L'azienda si impegna a coprire il turnover per le annualità 2019-2020 con l'assunzione a tempo indeterminato nella misura di almeno il 60% attingendo in via prioritaria alle persone che sono già state impiegate.